Piovono minacce di denuncia provenienti da tutta Italia nei confronti dell'amministrazione comunale di Poggio Sanita. A scatenare la rabbia degli animalisti di tutto lo stivale, alcune foto pubblicate su Facebook e relative alle condizioni in cui versa il canile comunale. Struttura già oggetto di polemiche che si sono susseguite nel tempo. Le immagini sono inequivocabili. Gruppi di 4-5 cani, anche di più, rinchiusi in strettissime gabbie, animali feriti senza che nessuno provveda a medicarli, caniette partorienti abbandonate a se stesse. Insomma, uno spettacolo raccapricciante che ha innescato un giro di reazioni che ha letteralmente infuocato il popolo di Facebook. Tante le email arrivate anche presso la nostra redazione, chiedendo attenzione e soprattutto invocando un immediato intervento da parte degli organi preposti al fine di porre fine allo scempio che si sta consumando nel canile di Poggio Sanita. Come detto, le minacce di denuncia per maltrattamento sono tante, associazioni e animalisti di tutta Italia sembrano intenzionati a non far passare inosservate le terribili condizioni in cui sono tenuti gli animali e l'incuria che domina nel canile. Gli amici a quattro zampe stanno ricevendo il sostegno di molti, ma questo non basta. Urge un intervento concreto. A questo serve l'accorato appello degli internauti.